Si avvicina a Natale e quindi è opportuno cominciare a comprare adesso, perché si paga un po' di meno rispetto agli ultimi giorni, per esempio la frutta secca. Oggi parliamo di noci, preferite quelle confezionate nelle apposite retine o sacchetti. Nell'etichetta potrete leggere una serie di informazioni utili per sapere, per esempio, la provenienza della categoria di vendita e soprattutto la scadenza delle noci. Se invece acquistate le noci sfuse, controllate il guscio che deve essere intero, ben pulito, asciutto, privo di muffe, è importante, e soprattutto senza segni in generale di attacchi di parassiti. Le noci devono avere una particolarità, insomma la noce deve essere messa in mano e deve essere un po' pesante, si deve sentire la noce, deve pesare anche la singola noce, perché questo significa che è un prodotto fresco, infatti con l'invecchiamento il gheriglio tende a seccare perdendo peso e volume. Se acquistate delle noci già sgusciate, controllate il fondo del sacchetto, qui insieme alla polvere di noci potrete vedere eventuali piccoli parassiti o residui della lavorazione. Scartate queste confezioni che danno questi segnali. Le noci con il guscio si conservano cinque mesi a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto. Se acquistate invece quelle sgusciate, conservarle in un vaso chiuso, in un luogo fresco e asciutto, ma non più di due mesi.